Leopoldo ha 52 anni, è un operaio della Sata. Lo stabilimento nel nucleo industriale di Pozzilli è in crisi. Tra il marzo e il luglio scorso, due commesse si sono esaurite. Ora, nell'azienda metalmeccanica dell'indotto Stellantis, si lavora, poco, con un'unica commessa, peraltro fortemente ridimensionata dalla presenza di un altro fornitore. Tanto poco che per non licenziare i 50 dipendenti, il management, in accordo con i sindacati, ha fatto ricorso ai contratti di solidarietà. In attesa di tempi migliori, si lavora a rotazione due giorni alla settimana. Ma, ci dice Leopoldo, a svolte positive oramai noi operai facciamo fatica a credere. La sensazione è diffusa di assegnazione, di lasciare le cose come stanno, di fare, come si tricare a campare, sperando in un miracolo. Io, purtroppo, vengo da un altro tipo di formazione. In queste situazioni sarebbe necessaria una lotta senza quartiere, perché a un certo punto, se l'azienda non ha prospettive, uno si mette fuori, blocca i cancelli e la mette spalle al muro l'azienda. Loro preferiscono, invece, aspettare l'evolversi della situazione. Ad oggi, per almeno parte dei 50 lavoratori, l'unica opzione realistica potrebbe essere quella di trasferirsi nello stabilimento dell'azienda in Nord Italia. Lei prenderebbe in considerazione questa opzione? Io sì, però le posso dire che, in generale, nell'ambiente lavorativo, c'è poca disponibilità a trasferirsi. Anche perché si tratterebbe, sostanzialmente, di cambiare di punto in bianco la propria vita? Trasferirsi a quell'età è più difficile che trasferirsi quando uno ha 20 anni, questo lo capisco. Però, dovendo scegliere da rimanere senza lavoro e lavorare, io, personalmente, le valigie le faccio. Intanto, subito dopo l'intervista, sul suo smartphone arriva la comunicazione dell'azienda. Anche la prossima settimana, Leopoldo non lavorerà.